I due tipi di segnalini in cartone che è bene conoscere sono i segnalini che vengono posizionati in questi due spazi presenti nelle province e nelle città. I centri di produzione economica non hanno questo tipo di spazi. Lo spazio più a destra, quello dove c'è scritto neutrale, è uno spazio che conterrà i segnalini relativi a quanto la popolazione supporta o osteggia la fazione antinsurrezionalista, quindi il governo batista. Lo stato in cui si può trovare la popolazione, quindi il pensiero della popolazione è una forbice di 5 valori che va da supporto attivo a supporto passivo. Essendo supporto quindi a favore del governo vediamo che i segnalini sono azzurri come azzurro e il colore del governo. Dopodiché nel mezzo c'è il valore neutrale, il valore neutrale è quello prestampato, quindi se la popolazione è in uno stato neutrale semplicemente non si mette il segnalino, non esiste un segnalino con scritto neutrale, per capirsi. Mentre gli altri due valori di opposizione passiva e opposizione attiva sono in rosso perché come vedremo sono molto importanti per la fazione del 26 luglio che ha il colore rosso nel gioco. Il setup iniziale presenta un certo numero di questi segnalini già presenti sulla mappa. Vediamo che a Pinard del Rio la popolazione ha supporto attivo, così come a Lavana. Vediamo che a Camaguei invece il supporto è passivo, al contrario a Oriente ma anche a Camaguei, il Camaguei provincia. Abbiamo una posizione passiva, mentre in Sierra Maestra abbiamo una posizione attiva. Questi valori ovviamente non sono fissi, durante la partita varieranno per effetto degli eventi e delle azioni delle varie fazioni che avranno tutto l'interesse a variarli perché avranno dei benefici. L'altro spazio, questo qui dove c'è scritto uncontrolled, invece serve a posizionare i segnalini di controllo per indicare quale fazione, se c'è, quale fazione ha il controllo della provincia oppure della città. I quattro segnalini possibili sono questi, quindi ce n'è uno per ciascuna fazione, cosa non vera in altri coin ma in Cuba Libre ogni fazione ha il suo segnalino. Qual è la regola per posizionarli? La regola è che una fazione detiene il controllo se ha la maggioranza assoluta dei pezzi, cioè la somma dei pezzi di una fazione deve essere maggiore, non maggiore uguale, maggiore della somma dei pezzi di tutte le altre fazioni in quella città o in quella provincia. Vediamo ad esempio che nella provincia della Habana nessuno ha il controllo perché i pezzi sono uno contro uno, cioè un casino del syndicate contro un guerrigliero del 26 di luglio. All'Havana invece vediamo che il governo ha tantissimi pezzi, ne ha 10, quindi 10 pezzi blu contro due gialli e uno verde e quindi sicuramente il controllo è del governo. Attenzione che, giusto per far chiarezza, in una situazione come... proviamo a creare una situazione differente. Supponiamo che qui a Camaguei ci siano due segnalini del direttorio, uno del movimento del 26 luglio è per esempio un cubetto blu. Visto che la somma dei pezzi del giallo non è più maggiore della somma di tutti gli altri pezzi perché sono due a due, allora in questo caso il direttorio perderebbe il controllo. Questi allineamenti, questi controlli del territorio e allineamenti della popolazione hanno un impatto diretto sulle condizioni di vittoria e sui segnalini delle condizioni di vittoria delle varie fazioni. Anzi, è tassativo ed è importante che nel momento in cui un giocatore farà le sue azioni gli altri si assicurino che nell'impeto, nella foca del gioco, se cambiano i segnalini di allineamento della popolazione e di controllo vengano di conseguenza aggiornati tutti i segnalini che rappresentano i punti delle varie fazioni di conseguenza e in tempo reale. Adesso che ho spiegato questi due tipi di segnalini possiamo capire, possiamo spiegare come le varie fazioni vincono, come segnano i loro punti. Innanzitutto questa informazione è presente nell'area di ciascuna fazione. Se guardiamo sopra la parte delle basi, c'è indicato per ciascuna fazione come la fazione vince, quindi quali sono le condizioni per cui la fazione, quali sono i modi, i pezzi che fanno, o le situazioni che fanno guadagnare punti a ciascuna fazione. La prima fazione che andiamo a vedere è quella del direttorio. Sulla pedina del segnapunti del direttorio leggiamo drpop più bases. Sul retro di queste pedine c'è una descrizione un po' meno laconica. Allora, il direttorio fa un numero di punti pari alla popolazione controllata dal direttorio più le basi che ha posizionato. Che significa? Il numero di basi posizionate, semplicemente il numero di basi che non si trovano nel riquadro delle forze disponibili al direttorio, ma che si trovano sulla mappa. Vediamo che tutte e quattro sono qui, quindi la componente delle basi del punteggio del direttorio, quindi questa, è zero. Se il direttorio avesse posizionato una base e ha l'accortezza, anzi le regole dicono di farlo, di scoprire man mano dei numeri crescenti, il numero più alto presente in quest'area, il numero più alto scoperto in quest'area, ci dice subito, senza dover controllare la mappa, quanti basi sono state posizionate. La seconda componente è la popolazione del direttorio, o meglio, la popolazione di tutte le città e di tutte le province sotto il controllo del direttorio. Vediamo che in questo momento il direttorio controlla soltanto la provincia di Camagüey. La provincia di Camagüey ha popolazione 1, quindi 1 di popolazione più 0 di Beises fa 1, infatti i punti vittorio del direttorio sono 1. Movimento del 26 luglio. Il 26 luglio ha due componenti, opposizione più basi. Basi lo sappiamo, è il numero delle basi posizionate. Vediamo che qui manca una base, infatti si nota l'1, quindi una base è stata posizionata, la base è senza era maestro, l'avevamo visto prima. C'è da capire cos'è opposizione. Opposizione è la somma di tutte le popolazioni, i valori di popolazioni, di ogni provincia o città in cui il segnalino è in opposizione. Quindi opposizione attiva come in questo caso, opposizione passiva come in questo caso. Se ci fate caso, quando qualcosa è attivo ha un moltiplicatore per 2, quando è passivo ha un moltiplicatore per 1, quando non c'è ha un moltiplicatore per 0, fondamentalmente a controller sarebbe per 0. Quindi il punteggio della M26 è una base più, calcoliamo l'opposizione. Allora, in Sierra Maestra la popolazione è 1, ma la posizione è per 2, quindi sono due punti, 1 per 2, più altri 2 dell'Oriente, che è 2 ma ha un moltiplicatore per 1, quindi siamo a 4, più 1 a Camaguei, 1 di popolazione per 1 di opposizione passiva, siamo a 5, più 1 di opposizione a Matanzas, quindi siamo a 6. 6 più una base è 7 e infatti il punteggio del 26 luglio è 7. Andiamo a vedere il punteggio del governo. Allora, il punteggio del governo è dato dal supporto e in più per vincere non solo deve avere un certo valore di supporto, ma anche tutte le città devono avere supporto attivo. Ricordiamo che il supporto attivo è così, per 2 blu. Cos'è il supporto totale? Il supporto totale è praticamente l'opposto dell'opposizione che abbiamo visto per l'M26, cioè è la somma della popolazione presente in ogni provincia e città in cui la popolazione è allineata con un segnalino azzurro, quindi supporto attivo o supporto passivo. Rifacciamo il calcolo, vediamo che a Santiago de Cuba la popolazione è indecisa, Sierra Maestra niente, Oriente niente, Camagüey provincia niente, Camagüey città sì, la città ha popolazione 1, moltiplicatore 1, quindi abbiamo il primo punto. Las Villas niente, Matanzas niente, La Habana sì, popolazione 1, supporto 1, quindi siamo a 2, e Pinard e Rio sono altri 2, 1 per 2, 2. Quindi siamo a 4 più la situazione dell'Havana. La Habana ha popolazione 6, per 2, 12, e 12 più 4 fa 16, infatti i punti attualmente del governo sono 16. Infine abbiamo i casinò. I casinò hanno un punteggio pari al numero di casinò aperti, e inoltre per vincere il loro quantitativo di risorse, ricordo che le risorse sono questi segnalini di legno, il loro quantitativo di risorse deve essere maggiore di 30. Quindi il numero di casinò piazzati sulla mappa e aperti è il loro punteggio. Vediamo che sulla mappa ci sono 3 casinò, ma dobbiamo assicurarci che siano aperti. Ora, durante il setup sono tutti aperti, sono qui sopra, e quindi il punteggio del Syndicate 3. In questo modo abbiamo visto come vengono calcolati i punti. Se non bastasse l'aiuto presente sui segnalini, che sono, ricordo, dietro hanno anche una piccola descrizione, e se non bastasse questo riassuntino qui, anche sui player aid è ripetuto ciascuna fazione come calco le punti e qual è la soglia di punti per vincere. Che vuol dire qual è la soglia di punti per vincere? Durante le fasi propaganda, quelle speciali fasi che interrompono il flusso normale di gioco, si verifica quale fazione ha... cioè, se uno o più fazioni hanno superato il valore di soglia che gli garantisce la vittoria. Nel caso, per esempio, del governo abbiamo detto che se il governo ha più di 18 punti, quindi il 19 in su, e comunque ha supporto attivo in ciascuna delle tre città, quindi in tutte e tre, vince. Questo promemoria è ulteriormente stampato sul tracciato del punteggio. Vediamo che ci sono queste ombreggiature colorate del colore della fazione, infatti sotto il 19 c'è scritto supporto, punto interrogativo. Come abbiamo visto, se il supporto è maggiore di 18, quindi 19 in su, il governo vince e questo è un indicatore della soglia. Esiste un indicatore della soglia per ciascuna delle fazioni. Qui abbiamo quella gialla e quella verde, e qui abbiamo quella rossa. Quella verde, la fazione verde, quindi il syndicate, ha un ulteriore indicatore qui sul 31, perché ricordo che la soglia di vittoria è sì che il segnalino dei punti, quindi dei casino aperti, sia maggiore di 7, ma il syndicate deve anche avere almeno 31 risorse. Come si fa a capire chi ha vinto? Beh, chiaramente se durante la fase di propaganda una sola fazione ha raggiunto la soglia minima di punti per la vittoria e ha soddisfatto di altre condizioni, quello è il vincitore sicuro. Nel caso in cui più di una fazione abbia superato la sua soglia minima, si guarda di quanto l'ha superata. Ad esempio, se il governo dovesse avere 21 punti, ovviamente, e anche tutte e tre città sono attive, hanno il supporto attivo, se il governo quindi dovesse avere 21 punti, avrebbe superato la soglia di più 2, quindi il suo punteggio a fine partita sarebbe 2, più 2, più 2. Nel caso in cui nessun'altra fazione abbia fatto meglio di più 2, il governo vince. Se invece a più 2 ci fosse, non so, per esempio il governo e l'M26, si deve ricorrere all'ordine di spareggio. Il primo nell'ordine di spareggio, nel parimerito che vince, è il syndicate. Quindi se ci sono più fazioni a parimerito per la vittoria, e una di esse il syndicate vince automaticamente. Subito dopo il syndicate c'è il direttorio, e per ultimo l'M26. Va da sé che il governo, quindi, in caso di spareggi, a parimerito sarà sempre l'ultimo in questo ordine, quindi non vincerà. Nel caso del syndicate, visto che abbiamo due differenti valori numerici, il numero di casino e il numero di risorse, si calcola come margine di vittoria il peggiore dei due. Quindi se per esempio il syndicate avesse 9 casino aperti e 49 risorse, è vero che le risorse sono molto più del 31 minimo, quindi con 49 sono 18. Ma poiché di casino aperti ne ha solo 9, quindi solo più 2, diciamo che il suo margine è più 2. Quindi il margine è minore fra i due. Un'altra situazione in cui si vince a Cuba Libre è se alla fine della quarta propaganda, quindi della quarta carta propaganda, perché nel gioco di carte propaganda ce ne sono solo 4, se alla fine della quarta fase propaganda nessuno ha vinto al controllo che si fa all'inizio della fase propaganda, si terminano tutte le operazioni dell'ultima propaganda e a quel punto chi ha il margine di vittoria migliore ha vinto, sempre secondo le regole di spareggio dette sopra.